Passiamo a questa magnifica Clio, simpaticissima, coloratissima, si tratta di un 1.2 benzina e GPL da 75 cavalli, perfettamente tenuta, i copricerchi un po' rovinati ma li abbiamo già recuperati nuovi, guardate che bella, fantastica per la famiglia, ah eccoli lì copricerchi, fantastica, fantastica per la famiglia, comodissima, anche al posteriore con questa bella panchina in tessuto molto morbido, passiamo all'anteriore, come vedete l'auto è veramente ben tenuta, i chilometri pochi, 51.980 come sempre certificati, qui lì certifichiamo sempre, autoradio, bluetooth mp3, ovviamente climatizzata, avviamento con la classica card Renault. Ecco qui, un'altra splendida occasione da venire a visionare e provare, a semarchi a Barallo Pombia.